Va bene, prendiamo pure atto che la fotografia in tanti ambiti ha perso punti in questo ultimo periodo di evoluzione, ma, caspita, alla stessa stregua prendiamo atto che la fotografia ha guadagnato tantissimi punti in altri ambiti. Quali? La fotografia e l'utilizzo dell'immagine in generale è diventato oggettivamente un linguaggio universale, immediato, rapidissimo, efficace, multiculturale e utilizzabile globalmente. Quindi la fotografia si utilizza assolutamente per comunicare, per comunicare a amplissimi livelli. Nelle scuole, ai nostri ragazzi, alle persone che saranno adulti del futuro, si insegna a parlare, a comunicare, a scrivere, a interfacciarsi con gli altri. E allora, visto che la fotografia è oggettivamente uno in mezzo principe di comunicazione, perché, caro Ministro, della pubblica istruzione, nella nuova proposta riferita alla riforma scolastica delle superiori, si prevede che l'insegnamento della fotografia sparisca, non esiste più la materia fotografia, e viene accorpata in tecnologie tecniche delle comunicazioni multimediali, un bloccone unico in cui la fotografia viene pensata e spiegata e utilizzata come elemento, come un elemento che serve per la comunicazione multimediale. Ora, certamente l'immagine fotografica è parte fortemente integrante all'interno della comunicazione multimediale, che però è un modo di comunicare. Togliere alla fotografia la identità, la sua dignità, diciamolo via, la sua degna identità, di mezzo con contenuti specifici, suoi autonomi, è sensato tanto quanto immaginare che la musica, questa è la scala, che la musica sia un'ancella della comunicazione multimediale, perché nei film, nella comunicazione multimediale, la musica, caspita, essendo un audiovisivo è importante, ma certo che è importante la musica in un audiovisivo, ma non si può per questo motivo sostenere che non esiste se non in funzione ancillare della produzione multimediale, la musica, e neanche la fotografia. Ora, attorno a questo argomento c'è parecchia documentazione proposta, propositiva, che raccogliamo e distribuiamo e la puoi trovare al directory del nostro sito www.fotography.org.scuola. Ok, ciao!